now say my name bella ragazzi mamma indiana johnson uguale bella ragazzi noi siamo i granas e siamo tornati con un nuovo video qui su questo canale detto questo che è la classica frase cominciamo a fare i video delle cintate oggi giochiamo oggi giochiamo contro io e lui e chi segna via la cintata cioè chi segna da cintata che devi fare dunque prenderemo squadre casuali magari mesce tipo un 5 stelle contro un 2 colombia no non hai capito eh si è così che cazzo fa che cosi no no non lo sapevo non si rifa si rifa dai 1 2 3 maggiorca svezia vabbè ho perso che partita ragazzi io non gioco a fifa da tanto ci sta ibra eh quella cosa quindi prenderò subito tanti gol e prenderò tante città oh ci sta il faro quello della lazio no vabbè ragazzi svezia maggiorca sono quei partite che rimangono una storia ragazzi che bravo il tiro ma che ha preso vabbè ma ci faccio si incaffra oddio peg 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 oh oh berg 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 il fratello di ezio oh la famiglia per il resto aspetta non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è alzati bello alzati 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 in piedi devi mettere pecorina vai addio mi ha preso pure male 1 a 0 porca muttana vai vai ma guarda che mi fa mamma oh oddio mi hai dato più anni ecco due un gordo lo devo fare no vai 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 no è fuori è fuori mamma mia godo pure per il pareggio vieni qua testa di cazzo dove cazzo sta la cinta dove sta dove sta dove è messa non lo so mamma vedete che goduria che goduria è fuori è fuori è fuori no 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 ma come hai fatto passati là è tuo è tuo è tuo è le è levade mamma mia eccolo berg 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 il tiro a rete ma berg che giocatore è ma che giocatore è ma che giocatore è mamma mia duro berg 45esimo in piedi sto ritardato guardalo cioè guarda quel pelato di merda ma come si chiama che giocatore è che si chiama eeeh no no ma questo non mi sembra male ah eccolo 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 no che fuori il gioco ma non c'era ma che stai qui ma che gioco ma si è facile faffanculo uh ibra se ne va purtroppo no mamma mia ma che golla ha fatto oddio olè io ho colto dalla mia vita via che bello ti provavo col ferro di pio vai oh te lo devi spiegare dai ha preso la chiappa interna interna aia dai fuori gioco no è fuori gioco è gol ma che cazzo ma no ma dai è scandaloso sta sempre in piedi devo stare che è lo scudo oddio no mi ha preso oddio mi ha preso sull'osso e vabbè capita dai ma vaffanculo c'hai mirato ma non è vero ma quando mai c'ho mirato ma te pare porca puttana ma te pare che c'è mirato che fai che ti aiuto dai ma non è lui ma poco andiamo a segnare sei poco ritardato c'è niente da fare una scuola di ritardare è partito ectal è partito ectal ma sa quanto sei lento fio e pensa che in me sono tutti così vai che non è fuori gioco 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 sei una vippa rara sei proprio una vippa rara vai aiuto no aiuto oddio nooo non ci posso credere come hai fatto grazie ma come hai fatto perca via oh ibra ibra vaffanculo dai quel culo dai ma non è possibile ma che è sta cosa ma che è sta cosa ma che è sta sentiamo down devo fare un eco è proprio un complotto ma che culo di merda è dopato vedi fatevi i test un po' corri così tanto all'87esimo dai dai vabbè non andiamo a fine quello qua si sta di stare per gol intorno al di dai dai che culo oh rigore ma guarda rigore si ma che hai cattato ma non ci posso credere ah vabbè uuuh uuuh nooo buttala via vieni bella vabbè ragazzi ci vediamo bella vieni la cintata non la viva era buggato il gol era buggato vabbè ragazzi questo video lo chiudo io e scappiate che in qualche video prossimo lui prenderà una cintata e se arriviamo a tanti like vi vedete con 5-600 gli do una cintata al prossimo video vi la do davvero bella